Giovanotti ragazzi ben ritrovati qua sul mio canale a volte è proprio questione di culo fortuna mi sono fermato un attimo a bere ho girato gli occhi che magari scendevo di qua e non li vedevo e guardate un po lì se non sono meraviglie quelle ci diamo un'occhiata guardiamolo qua è pieno di amanita il che aiuta bene bellissima bellissima questo è incollato alla terra che roba ragazzi che roba che roba che roba ragazzi bellissimi mamma mia estasiati giovanotti carissimi siamo di nuovo nel bosco e continuiamo a vedere meraviglie meraviglie nel vero senso della parola che roba ragazzi che roba il muove nascite 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 ragazzi vediamo l'inizio della buttata vediamo l'inizio della buttata il muove nascite che roba ragazzi che roba ragazzi che robetta che roba ragazzi 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 è più alto di un palmo guardate è più alto di un palmo che roba che roba sono impressionato che roba che roba ragazzi non riesco ad allungare abbastanza il braccio per riprenderlo il mostro il mostro il mostro